Siamo con Fabio Laera, autore del primo gol per l'Imperia contro l'Alessio FC. Fabio, una partita tiratissima, specialmente voi dalla difesa siete stati chiamati numerose volte in causa, visti le continue verticalizzazioni dell'Alessio. Dammi un parere su questa partita. Lenni, per favore, Lenni. Sì, è stata una partita combattuta, davanti erano una squadra fisica, quindi è stata una bella battaglia. Ci hanno messo un po' in difficoltà sui lanci lunghi e alla fine mi è preso un gol al novantesimo. Ci mangià le mani. Peccato per quel gol allo scadere, però tutto sommato diciamo che l'Imperia ha fatto la partita. Sì, non possiamo lamentarci. Abbiamo preso un gol al 45esimo e un gol al novantesimo da stupidi. Forse dobbiamo migliorare un po' a gestire un po' più la partita. Prossimo impegno, il 13 gennaio contro Valdivara. Fabio, che partita sarà secondo te? Ci manca Costa e mezzo al campo che è squalificato. Dobbiamo per forza andare là a fare tre punti e continuare con questa striscia positiva che alla fine, dalla prima di campionato che non perdiamo, non continuare così. Grazie.